Immaginate una donna bionda con frangia, che nel metaverso sfida le convenzioni indossando un avatar cyberpunk. È un simbolo di libertà e innovazione. In un'epoca in cui le donne erano spesso ignorate, lei ha creato spazi virtuali che celebrano la diversità. Ha affrontato il pregiudizio e le critiche, ma ha perseverato, dimostrando che il futuro è inclusivo. Lo sapevi che il suo avatar è diventato un'icona di stile e forza per molte? La vera bellezza è essere se stessi, diceva sempre. Con il suo lavoro ha ispirato generazioni a esplorare identità e creatività nel mondo digitale. È una pioniera del metaverso, una donna che ci ricorda di abbracciare chi siamo e di abbattere le barriere.